Ciao, oggi mettiamo insieme ciò che abbiamo imparato in tutorial precedenti per creare un altro biglietto natalizio. Lo scopo naturalmente è quello di rendere operativo ciò che abbiamo imparato in teoria, mescolando quello che abbiamo visto per le cornici e quello che abbiamo visto per i testi. Ecco qua, apro una pagina che come al solito può essere di qualsiasi formato, dipende che cosa vuoi realizzare e diciamo che voglio scrivere un biglietto di Buon Natale che abbia però una scritta un pochino originale. Per prima cosa vado in elementi e in cornice. Scendendo, se ti ricordi, abbiamo visto che ci sono anche delle lettere. In questo caso a me interessa una B. Posso prendere una B qualsiasi, certo, ma se voglio realizzare un lavoro fatto bene, come ti faccio vedere poi io, devo cercare un carattere che io poi posso ritrovare anche tra i font del testo. Come faccio a sapere che carattere è questo? Allora, quando io metto il mouse sulla lettera, compaiono questi tre puntini. Cliccando sui tre puntini, qui mi viene dato il nome del carattere. Allora, io vado a cercare una lettera B. vedi, per far prima posso anche fare così, cornice letter B e mi dà tutte le possibilità. Allora, questa io so già, te lo dico già io, nei font del testo non c'è. Allora, B e cercare se c'è. Esatto, c'è. Allora, per il lavoro che devo fare questo carattere, questo font va bene. Allora, torniamo indietro, torniamo nelle nostre cornici e prendiamo questa B. Questa sarà la nostra B per poi poter scrivere Buon Natale. Adesso noi lavoriamo sulla B, la ingrandiamo un pochino, ecco qui, metto uno sfondo tanto per far risaltare, ecco, un pochino meglio la cornice. Poi cosa faccio? Vado in foto e cerco un'immagine di Babbo Natale che mi servirà per fare il lavoro. Prendo questa. Noi sappiamo già che trascinando la foto, ecco qua, la foto viene inserita nella cornice, perché questa è una lettera ma è una cornice. Poi, cliccando due volte, io riesco a posizionare l'immagine. In questo caso, però, vedi che io vorrei mettere l'immagine da questa parte e qui non riesco, cioè più in là di questo non va, proprio per come è fatta la figura. Se mi interessa farlo da questa parte e a me interessa questa parte, perché poi qui scriverò Buon, non faccio altro che tornare indietro, capovolgerla orizzontalmente e poi inserirla di nuovo nella cornice. Clicco due volte, vedi che in questo caso, siccome abbiamo posizionato dalla parte sinistra, io posso mettere tranquillamente la mia immagine posizionata qui. Cercherò di farne uscire un pezzettino dalla lettera, sia da una parte che dall'altra. Perfetto, ho posizionato la mia immagine. Adesso sai, perché se ti ricordi l'avevamo già visto in un tutorial precedente, che se voglio creare l'effetto di una parte dell'immagine che fuoriesce, devo duplicare l'immagine e togliere lo sfondo. Allora, se hai la versione a pagamento o Edupro è facile, perché basta andare tra le scelte delle scelte della modifica immagine per togliere lo sfondo, altrimenti io vado su foto, carico nuovamente questa foto, la capovolgo di già, la scarico, questo l'avevamo già visto, salvandola in PNG. Ovviamente non scarico tutte le pagine, ma soltanto la numero 2. Poi vado sul sito Remove Background, che è questo, remove.bg, carico la mia immagine, ecco qua, e tolgo perfettamente lo sfondo. Poi gli dico scarica, torno su Canva, questa non mi serve più, la posso cancellare, non mi interessa, torno sulla mia pagina, caricamenti, carica file, carico l'immagine a cui ho appena tolto lo sfondo, ed eccola qui. Benissimo. Adesso devo aprirla in modo che sia grande esattamente quanto quella che ho inserito. E poi che cosa devo fare? Devo spostarla per sovrapportare, comporla perfettamente. Vedi che la misura non è perfetta, ecco qua, proviamo, sì, sembra di sì, adesso vediamo subito. Per controllare puoi utilizzare questo trucchetto, vai in trasparenza, la rendi trasparente e vedi subito se si sovrappone perfettamente a quella sotto. Ecco, andava aggiustata un pochino, bene, poi torni su trasparenza e la rimetti al 100%. Adesso devi tagliare via questo pezzo, perché questo pezzo è quello che deve sembrare all'interno dell'immagine. Quindi, trascini, arrivi fino qua e ti fermi proprio al confine. Clicchi fuori ed ecco che io ho questo babbo natale che in parte è all'interno della lettera, in parte è uscito dalla lettera. Per rendere questo effetto ancora più evidente posso utilizzare qualcosa che abbiamo imparato parlando dei testi. Ecco perché ci serviva il font identico. Allora io vado su testo, scrivo B e posto di qua. Poi vado a cercare Ebril e vedi che io ho ottenuto una B esattamente come quella che ho scelto per il mio lavoro. Anche qua la dovrò ingrandire tanto quanto l'altra. Ok, adesso cosa faccio? Sovrappongo questa B, uso lo stesso trucchetto di prima, ecco perché in questo modo si vede meglio. Picciolisco perché deve coincidere perfettamente. Ok, la rimetto al 100%. Poi vado su effetti, scelgo svuotamento, diminuisco lo spessore, poi vado sui colori e scelgo ecco lo stesso rosso del cappello. Bene, posizione indietro perché questo deve diventare il bordo della lettera. Ed ecco il risultato finale. Io ho combinato due effetti, quello dell'inserimento di un'immagine e del contorno del testo per ottenere una bellissima iniziale che può servirmi per il biglietto di auguri. Ovviamente se voglio scrivere Buon Natale non farò altro che aggiungere in questo caso Buon, metterlo nello stesso stile perché sennò viene una cosa brutta. Ecco qui. Dopodiché io all'interno di questo, ecco, all'interno di questo testo posso operare una serie di cambiamenti. Posso metterlo nello stesso stile di questo qua. Quindi andrò a cambiare, a mettere il nero, poi ti ricordi come si faceva, no? Lo duplico, vado su effetti, svuotamento, riduco un pochino così, metto lo stesso rosso e poi sovrappongo. Una volta che hai realizzato la scritta, adesso io qua lascio Buon, poi naturalmente va completata, devi mettere uno sfondo. In questo caso, siccome la scritta è abbastanza pesante perché c'è questo rosso scuro su questo nero, ci vuole qualcosa che renda lo sfondo luminoso. Allora io scrivo oro e vado a prendere qualcosa che può alleggerire la mia immagine. Ecco, potrebbe essere questo, ad esempio, che alleggerisce notevolmente la scritta, richiama comunque i colori del Natale e rende più leggero il tutto. Ovviamente una volta che hai imparato questa tecnica puoi sbizzarrirti. Ti faccio vedere degli altri esempi, non lo so, uno potrebbe essere questo, andando a sistemare queste pennellate color oro che escono dalla lettera, oppure quest'altro. Questo può essere un altro esempio, dove c'è un Babbo Natale che esce dalla prima lettera, qui ci sono dei pupazzi che escono dalla prima lettera e poi qui c'è l'inserimento all'interno sempre delle lettere cornice dello stesso sfondo dell'immagine da cui ho preso il Babbo Natale per avere una continuità. E lo stesso da questa parte. Quindi, per tornare a noi, hai visto come combinando ciò che abbiamo imparato precedentemente si possono inventare prodotti sempre originali. Per adesso ti saluto e ci vediamo alla prossima. Buon lavoro!